un saluto a tutti gli amici di avocpoint.it e bentornati in un nuovo video dove andremo a vedere cinque titoli che secondo noi sono da acquistare con i sconti di febbraio del playstation store il primo titolo che vi consigliamo di acquistare tra tutta la listona proposta da sony è sicuramente the witcher 3 wild hunt game of the year edition the witcher 3 che non ha bisogno di presentazioni un gioco amatissimo dal pubblico e anche dalla critica la versione game of the year edition è sconto a 29 euro e 99 e c'è poco da dire contiene il gioco base più tutte e due le espansioni che a detta di molti sono le migliori espansioni mai create per un videogioco non potete dunque farvelo assolutamente scappare nel caso non abbiate già giocato le avventure di geralt il secondo titolo che invece vogliamo consigliarvi è disonored 2 disonored 2 che è uscito a novembre del 2016 è già scontato del 50% con 35 euro quindi vi potete portare a casa le nuove avventure di corvo che per tanti sono state una buona rivoluzione del genere stealth e in generale se avete apprezzato il primo episodio assolutamente non potete farvelo sfuggire altro titolo consigliatissimo per il forte sconto è pre evolution social 2017 scontato del 66% addirittura è l'ultimo titolo di konami a livello calcistico pro evolution social 2017 per molti utenti è quel gradino che mancava a pes da tanti anni una simulazione calcistica giusta ben congeniata e che sicuramente per i patiti non può mancare nella vostra libreria quindi con 19 euro e 90 vi portate a l'ultima fatica di konami nell'ambito calcistico altro consiglio immancabile con questi sconti è uncharted 4 uncharted 4 che va a completare la leggesta di natan e in sconto del 58 per cento scende quindi a 25 euro che vi porterete a casa un titolo che per tantissime persone è la migliore esclusiva playstation 4 ad oggi disponibile non possiamo quindi che consigliarvi di aggiungerlo al carrello e portarvelo a casa quinto ed ultimo consiglio ma non per importanza è just cause 3 just cause 3 scende a 19 euro e 99 è un titolo del dicembre 2015 ma è un titolo divertente spassionato e che difficilmente vi farà staccare gli occhi dallo schermo non fate caso alla storia che magari non è la parte forte del titolo però vi possiamo assicurare che con 19 euro e 99 vi portate a casa un titolo divertente fresco e che graficamente sa regalare delle emozioni molto importanti non possiamo quindi che consigliarvelo così vi portate a casa un titolo veramente ottimo noi ci fermiamo qui con i nostri consigli del playstation store fateci sapere qui sotto cosa ne pensate e cosa volete consigliarci voi ci vediamo alla prossima ciao